Non è scortesia, però io credo che a prescindere dalle pareti di cartone quello che si dice dentro un spogliatoio è sacro e io sono come un fratello maggiore, un papà, è quello che si rimprovera dentro casa, poi io fuori difenderò sempre i miei giocatori quindi io gli ho fatti i complimenti perché fino al 65esimo secondo me l'Udinese se l'è giocata alla pari con una squadra con obiettivi diversi con le sue idee, con la sua organizzazione umile ma propositiva e secondo me se sommate i 120 minuti di Coppa con questi l'Udinese se l'è giocata con le sue armi quindi facciamo i complimenti al Napoli perché quando vince una squadra devi sempre rispettare il risultato del campo però noi secondo me con la nostra dimensione e con 5 giocatori in panchina perché tolti i portieri eravamo veramente pochi ma non come alibi, secondo me ce la siamo giocata a testa alta. Quali sono, diciamo l'obiettivo è sempre questi 40 punti ma se continuiamo così forse anche c'è una flessione di motivazioni e questo è quello che vedi nella squadra perché insomma hanno giocato bene per 65 minuti, hanno anche mancato secondo me il 2-2 e poi si sono un po' persi su quell'autocoll Sì è così e tu sai bene, conosci la nostra piazza e diciamo che io volevo fugare qualsiasi dubbio se qualcuno... non dobbiamo sbagliare e capire diversamente quali sono i nostri obiettivi Ripeto, l'Udinese ha fatto con Juventus e Napoli due partite coraggiose due partite giocando se l'avviso aperto però gli ultimi 25 minuti non mi sono piaciuti secondo me non c'è niente di male essere onesti quindi io credo che in questo il lavoro di un allenatore passa anche attraverso questo domenica abbiamo la Lazio che sarà un'altra partita contro una squadra che ha obiettivi diversi dai nostri quindi dimostriamo a tutti che l'Udinese è quella della Juventus e dei primi 65 minuti perché è quello che credo anch'io e credo che sia giusto così